Grazie a tutti voi per essere qui. Benvenuti e benvenute. So che si dice sempre però sono particolarmente felice di moderare questo incontro con voi perché è un incontro che mi sarei seduta in prima fila ad ascoltare, quindi sarei stata comunque ad ascoltarvi e perciò sono molto felice di essere qua con voi. Per questo dialogo appunto come ce l'ha presentato Benedetta Novello partiremo dal tema del rapporto tra morte social, invecchiamento e social. Viaggeremo un po' fra i testi che Massimo e Davide, ci diamo tutti del tuo, abbiamo stabilito? Ok, hanno scritto che mostriamo una invecchiare al tempo della rete e l'altro è la morte si fa social. Viaggeremo su questi testi, non staremo proprio però se poi vorrete approfondire quello che raccontiamo qui dentro vi posso assicurare che troveremo tanto delle cose che ci diremo stasera. Ma partiamo subito così che abbiamo tanto da dire. La prima cosa di cui vorrei parlare con voi è un po' il rip 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 che diceva Benedetta in realtà, cioè è il tema del linguaggio. Sappiamo che la morte porta con sé un linguaggio, che la malattia lo porta, penso a Susan Sontag che ne ha fatto grandi libri su morte, su malattia, linguaggio bellico, invecchiamento. Vorrei capire con voi come sui social, se esistono delle parole che vengono utilizzate per raccontare la morte, l'invecchiamento o la paura di questi due, poi sulla paura in realtà ci arriveremo. Se voi le avete identificate, se trovate che ci sia una ricorrenza fra queste. Comincio io. Buonasera a tutti innanzitutto e grazie, è bello ritrovarsi qua tutti insieme a parlare di questi temi che a me appassionano molto. Sì, diciamo che il linguaggio che troviamo sui social media in presenza di un lutto o in presenza di una malattia è un linguaggio molto variegato. Una prima impressione che ho avuto è innanzitutto una banale trasposizione di caratteristiche linguistiche abbastanza classiche quando muore una persona appunto dal classico rip che è stato menzionato a tutta una serie di immagini legate fondamentalmente al passaggio. Una delle cose che trovo forse più ricorrenti è l'immagine appunto e sono le frasi che rimandano all'idea sei diventato un angelo, il collegamento fondamentalmente con l'aldilà sia attraverso le parole che attraverso proprio l'uso di determinate immagini. A me aveva colpito per esempio tra le tante cose che avevo osservato in un caso particolarmente delicato che riguarda una persona che si è suicidata e che aveva dato informazioni poco prima del suicidio che l'avrebbe fatto sui social che pare abbia cambiato la propria immagine del profilo mettendo un angelo, cioè dava l'idea che fondamentalmente si stava trasformando. E questo è un primo aspetto secondo me particolarmente interessante, questo fatto di ritrasporre dei linguaggi che sono tipici fondamentalmente dell'idea del passaggio, della trasposizione dall'al di qua all'al di là con delle immagini o con delle formule canoniche perché danno l'idea di fatto di una specie di continuità, quella continuità che ritroviamo tra le persone soprattutto anziane che parlavano con i morti sulla tomba. E questo è un aspetto secondo me interessante, anche tenuto conto del fatto, e questo non ci sono statistiche specifiche perché è un aspetto molto delicato questo, però si dice, si racconta che un numero di persone particolarmente consistente continua a parlare con i morti su Whatsapp e quindi non su un luogo diciamo visto dagli altri, quindi all'interno di un luogo pubblico, ma all'interno di un luogo privato. Si trasforma il profilo di Whatsapp come una forma di continuazione del legame. Mi era capitato, cito questa cosa che mi capita spesso di menzionarla, una studentessa di filosofia che mi aveva chiesto se secondo me era anormale il fatto che lei ha perso il fidanzato e continuava a scrivere, a raccontare le vicende della sua vita a questa persona, tanto che quando si è laureata la prima cosa che gli è venuta naturale fare è mandare un messaggio al fidanzato dicendo cosa è il voto, ovviamente senza aspettarsi la doppia spunta blu, sapeva benissimo che lui non lo leggeva. Quindi mi dà l'idea sia nel pubblico che nel privato, ovviamente nel pubblico c'è l'idea che comunque sei letto dalle altre persone e questo ovviamente condiziona un po' l'espressività e questo lo ritroviamo per esempio per quanto riguarda la malattia e qui si potrebbero aprire moltissimi versanti ma non voglio prolungarmi troppo. Però riguardo alla malattia entrano in gioco tutta una serie di fattori che uniscono le parole e le immagini in una maniera molto particolare. Si viene rappresentati per esempio con i segni della chimioterapia cosa che una volta lo si faceva vedere il meno possibile ma è un tentativo di rompere un tabù. Ma quello è un discorso molto molto ampio. Sul piano del lutto sembrerebbe quasi che si intenti di utilizzare la tecnologia per modernizzare dei linguaggi e dei comportamenti che sono poi di fatto abbastanza tavici e che caratterizzano il nostro legame con l'assente. Grazie. La domanda che voglio farti è ma quando si invecchia sui social quindi il linguaggio invecchia con te e vecchio come funziona? Prima volevo dire una cosa, rispondo subito. Mi hai fatto venire in mente una cosa che ho trovato tra l'altro nel tuo libro e che io pensavo di essere particolarmente furbo e di conoscerla solo io e è una cosa sulla quale dovremmo meditare perché... Ah scusi. Ed è che a un certo... cioè secondo me è uno degli elementi molto importanti quando muore qualcuno è che c'è un sentimento sotterraneo che nessuno... non funziona? Ha meglio questo? Ok. C'è un sentimento sotterraneo che tutti noi tacciamo e che è una specie di indecente euforia. È una cosa che ha scritto Canetti in un saggio che probabilmente citi anche tu. Cioè sostanzialmente quando noi, non so, muore la rock star, no? Alla quale noi abbiamo, colleghiamo i nostri ricordi fondamentali della nostra vita giovanile e noi non ammetteremo mai che c'è un sentimento di questo tipo nei confronti della morte di David Bowie e però questo sentimento sotterraneo c'è e questo sentimento è una specie di grido ed è il grido di sì ok lui è morto ma io sono vivo. Molte dei fenomeni sociali che leggiamo sui social nel momento in cui muore una persona nota o anche una persona non nota ma che abbiamo conosciuto hanno questa piccola cosa indecente al di sotto e che non può essere allontanata da noi e quindi la forma più banale di questo è quando muore un personaggio famoso e tutti cercano disperatamente di trovare una foto nella quale erano con lui o perché si ottengono entrambi i risultati, no? Cioè si dice beh io però ci sono ancora e contemporaneamente dice io l'ho frequentato, ero con lui. Però ecco no, volevo aggiungere questo perché secondo me è molto triste da dire però è un sentimento molto umano e naturale. Non mi ricordo a questo punto la domanda che mi avevi fatto. La domanda era se quando si invecchia sui social il linguaggio diventa vecchio, invecchia con te o si utilizza un linguaggio vecchio? Allora secondo me ci sono due situazioni, parlo per esperienza personale ovviamente, due situazioni abbastanza differenti una dall'altra. La prima è quella quella che nel libro che ho scritto io chiamo, insomma immagino una figura intermedia che è legata agli ambienti digitali che io chiamo il vecchio giovane, cioè una specie di età intermedia che supera l'età adulta e si inserisce fra l'età adulta e la vecchiaia. Il vecchio giovane cerca di parlare come un giovane, cioè diventa ulteriormente imbarazzante, ma non solo parlare, comincia a guardare delle sedie tv oppure ascolta della musica, perché nel tentativo disperato che tutti facciamo di bloccare il tempo in qualche maniera e quindi di frequentare persone più giovani di noi, ovviamente il linguaggio è una parte integrante e quindi il vecchio giovane assolutamente dice ehi Shalda o cose di questo tipo, anche se non l'ha mai detto in vita sua. Poi però il passo subito successivo è quando davvero diventiamo vecchi e in quel momento lì il linguaggio marca un confine, nel senso che anche le parole stesse si allontanano da quelle delle generazioni precedenti e quindi è un po' come una specie di termometro, per cui il linguaggio di mia figlia che ha 20 anni è lontanissimo dal mio, più l'età aumenta e più diventa consono a quello che io ho frequentato per tutta la mia vita, poi c'è questa specie di picco impazzito in cui io penso che ci sia la possibilità di rimanere giovani, poi capisco che non è così e allora ritorna esattamente nei binari precedenti. Forse quello che succede è questo. Raccontando questo, a parte che Shalda è vecchio anche per me. No ma perché è età, io arrivo molto molto tardi. Però anche io se dico Shalda mi guardo un po' No era per una vicinanza. Come si dice adesso, chill. È un po' imbarazzante perché non lo so. Hai anticipato una cosa in realtà, in Invecchiare al Tempo della Rete tu scrivi del pericolo di sembrare ridicoli. Cioè parli di vergogna che è un po' di quello di cui vorrei parlare adesso. Ed è un tema interessante, nel senso che quando tu leggi qualcosa in cui non ti ritrovi e in cui pensi che sia vergognoso averlo scritto, provi quel sentimento di pudore per l'altro. Cioè un pudore empatico diciamo. Come si vive tutto questo senso del ridicolo? Ovviamente il senso del ridicolo è uno di quei sentimenti che hanno declinazioni molto varie. Sono persone che non lo hanno mai frequentato dagli 0 ai 90 anni e altre persone che a 20 anni si sentono assolutamente ridicole. In ogni cosa che fanno è anche la più normale. Quindi c'è una grande variabilità. Secondo me a un certo punto il tentativo di seguire l'onda delle conversazioni digitali che sono abbastanza orientate da un punto di vista del tipo di argomenti. Nel senso che sono tendenzialmente giovani. Cioè nel senso che la musica, il cinema, se devono avere una connotazione temporale è una connotazione orientata come è giusto che sia. Anche se faccio un inciso terrificante la costruzione di Un amore di Ivano Fossati che è una delle canzoni più struggenti e adulte nella storia della musica italiana Fossati l'ha scritta che aveva 25 anni. Per cui questo è uno di quei temi. Per cui non è neanche tanto vero quello che ho appena detto. Detto questo, per carità, succede questo. A un certo punto la quantità complessiva delle conversazioni si orienta per un'età che non è più la tua. Sentirsi ridicoli è abbastanza inevitabile ma soprattutto è pericoloso. Ripeto, c'è un tratto autobiografico drammatico in queste cose che sto dicendo non prendetele assolutamente come una cosa che valga per chiunque. però insomma il problema fondamentale è quello di essere riconosciuti. Cioè se il tuo tentativo è quello di mimetizzarti all'interno di un ambiente che da un punto di vista anagrafico non è più il tuo magari il linguaggio fa in modo che gli altri capiscono chi sei e questo è quello che in quel momento non vuoi. Ed è anche il motivo per cui a un certo punto uno si stufa di questo e dice chi me lo fa fare? Più o meno la stessa cosa cioè questo senso del ridicolo è avvertito anche in chi posta la morte in chi racconta la morte online? Ma a parte faccio anch'io questo inciso per quello che ha detto prima Massimo una conferma di quello che dicevi negli ultimi quando ho detto che purtroppo è morto Gianni Vattimo ho scoperto che non c'è un torinese che non si sia fatto una fotografia con Vattimo perché il giorno dopo c'erano soltanto fotografie insieme a Vattimo quindi probabilmente tra le tante belle caratteristiche di Vattimo c'era anche quello di essere poi disposto a farsi le fotografie con le persone per a parte questo diciamo che è molto difficile dare una valutazione oggettiva sulle forme linguistiche che caratterizzano il rapporto tra le persone e la morte online ma più che altro perché è stato un fenomeno da un certo punto di vista che si è sviluppato a nostra insaputa i social network sono nati poi limitiamoci con i social network poi c'erano anche altri diciamo altri luoghi in cui si parlava di morte soprattutto prima però i social network sono nati fondamentalmente per mettere in comunicazione le persone il primo social network risale si dice al 1997 sixdegrees.com e poi l'epoca diciamo che ha dato il via al social network è quella prima di MySpace e poi soprattutto di Facebook nato nel 2004 e poi diffusosi soprattutto tra il 2007 e il 2008 e quindi inizialmente l'idea era innanzitutto di social media molto per persone giovani fondamentalmente inizialmente erano vissute quasi come un gioco ci si metteva in contatto lo si utilizzava al posto delle vecchie chat che venivano utilizzate su messenger o via email e però non si teneva conto del fatto che tutto quello che noi condividiamo viene appunto registrato che la morte fa parte della vita che quando moriamo biologicamente tutto questo resta siamo rimasti in un certo ugual modo irretiti da questa situazione io ripeto una cosa che ripeto sempre perché fa effetto oggi su Facebook si calcolano 50 milioni di utenti deceduti di profili di utenti deceduti ci sono studi che calcolano che a breve un social media come Facebook avrà più profili di utenti deceduti che di profili di utenti vivi e queste statistiche poi non sono molto differenti su Instagram e sugli altri social media anche TikTok che è più giovanile comunque incomincia a vedere questi effetti quindi abbiamo cominciato a sperimentare il lutto online quasi cercando di imparare nel momento com'è come farlo e quindi le prime manifestazioni erano si basavano forse ecco quello trovo un'evoluzione nel corso degli anni le prime manifestazioni erano molto classiche banali cioè nel giorno del compleanno ricevevi la notifica sullo smartphone adesso capita meno tramite gli algoritmi si separano generalmente i profili però ricevevi una notifica sullo smartphone di fare un compleanno all'amico morto alla persona morta rimanevi colpito da questa cosa e scrivevi delle frasi di nuovo legate al passaggio al rapporto simbolico tra la vita e la morte vorrei che tornassi di cui io mi ricordo una cosa che mi aveva fatto sorridere una persona che ha pubblicato una foto con una birra in mano dicendo alzo il boccale verso il cielo e mi aspetto che anche tu stia brindando con me per il tuo compleanno e poi questa cosa invece si è man mano evoluta con post molto lunghi e più articolati ora il senso del ridicolo secondo me sta più nella motivazione che spinge a fare questo e su cui ci sono moltissime riflessioni a riguardo che cosa ci spinge a metterci così in mostra nel affrontare il lutto faccio adesso mi vengono tanti esempi una cosa che aveva colpito molte persone che esempio su Instagram è molto diffuso il selfie col morto o il selfie durante il funerale una cosa c'è stata un'ampia discussione a volte col morto proprio col morto presente a volte al funerale ma chi segui su Instagram? no ma ad esempio al funerale aveva fatto molto scalpore un selfie di Obama durante il funerale di Nelson Mandela mi sembra con Cameron credo tanto che la moglie di Obama era li guardava malissima in questa immagine ma cosa fanno questi e quindi secondo me e anche lì c'è tutta un'interpretazione particolare sul fatto che questo gesto sia un tentativo di riportare in pubblico degli eventi più privati c'è tutto un dibattito sul perché fare la foto col morto che poi tra l'altro la foto col morto non è una pratica così inedita ci sono state epoche in cui era una cosa normale farlo ci sono tutt'oggi delle culture per esempio in delle culture asiatiche che portano a fare delle foto con i cadaveri e quindi secondo me tornando alla domanda che mi hai fatto il senso del ridicolo si interseca con tutte queste modalità espressive per cui da un certo punto di vista ci sono dei bisogni che si esprimono e che evidenziano una mancanza cioè io fino ad ora prima dei social faccio fatica ad esprimere il senso appunto dell'assenza perché viviamo in una società fortemente individualistica e dove mi sento isolato però dall'altra parte ed ecco qui il senso del ridicolo quando io mi esprimo così in modo molto diciamo esplicito sui social so che vengo letto e di conseguenza ho delle finalità terze che poi possono essere interpretate o per differenze di età o per differenze di idee di politiche sociali culturali e via dicendo e quelle possono apparire per delle persone ridicole fuori luogo mentre per altre possono invece sembrare più aderenti a delle simbologie delle forme espressive invece in linea quindi secondo me è molto variegata questo tipo di interpretazione sì è un po' quello il punto non so se ti ricordi noi ce l'avamo conosciuti online a seguito ognuna cosa che io avevo scritto su tiktok e il lutto perché grazie al mio algoritmo alle mie ricerche allegre a un certo punto tiktok mi indicizza e mi fa vedere solo video di persone che parlano di un lutto recente e lì mi ossessiono no perché noto una tendenza ancora diversa dalla foto cioè non so quanti di voi conoscono tiktok ma tiktok è un social che è un pochino più elaborato nel senso che proprio nel contenuto che propone tendenzialmente c'è sempre un video o qualcosa di un po' un po' diverso dalla foto postata e quindi quello che che notavo al di là di tutto era un po' questa cosa che dicevi tu cioè voglio dire se io devo fare un video a un certo punto c'è una parte tecnica devo montarlo metterci la musica trovare i tempi giusti aggiungerci e questa cosa mi aveva un po' sconvolto cioè tutto questo lavoro che c'è dietro e arrivo qua a chiedervi fa parte di una nuova modalità di elaborazione del lutto ah ok secondo me che tendo a vedere le cose in senso più positivo che negativo sì nel senso che ad esempio su tiktok è vero non mi ricordavo questa cosa che dicevi c'è un un hashtag che è griftok che raccoglie appunto tutta una serie di video costruiti veramente in maniera quasi cinematografica per rappresentare il lutto e secondo me quella cosa lì riempie un vuoto cioè nella società in cui noi viviamo se ne parlava oggi in un deaf caffè che ho condotto lo ricordavo una signora viviamo in una società che hai tre giorni di permesso al lavoro per affrontare un funerale poi devi ritornare immediatamente essere operativo lavorativo è vero che tiktok riguarda soprattutto le persone più giovani hanno meno questo problema però di fatto anche i ragazzi più giovani si ritrovano poi subito immersi con gli impegni scolastici e via dicendo e quindi non c'è fondamentalmente un luogo un momento collettivo in cui ci si ferma e si parla di ciò che uno prova e sente di conseguenza mi pare che questo tipo di strumenti sia una forma di dire guardate io sto affrontando questo sto provando questo voglio esprimerlo quindi io il lato positivo di questa cosa la vedo qui nel senso che c'è questo bisogno di dire anch'io che sto soffrendo esisto e mi metto in mostra e vi faccio vedere che esisto e che sto soffrendo poi certo l'essere umano è molto complesso ci sono molte persone superficiali ma c'erano anche prima dei social media e che ne so vanno al funerale scegliendo l'abito per farsi vedere dagli altri piuttosto che per celebrare il funerale sappiamo che viviamo in una società che siamo abbastanza ipocriti ci sono tante persone che vanno magari al funerale del parente ma dentro di sé dicono ma non è che me ne fregasse più di tanto però devo farmi vedere da tizio e caio e come c'è questo tipologia di persona lì c'è ovviamente anche online in cui vediamo se la telecamera mi inquadra inquadra la lacrima perfetta vediamo e quindi quel tipo di superficialità è una superficialità che riguarda la persona e ci sono sicuramente anche queste espressioni negative che tra l'altro spesso vengono scoperte dagli altri utenti perché questo è anche interessante chi esagera però poi gli viene sottolineato cioè a volte mi è capitato che chi eccede nel palesarsi poi questa cosa comunque emerge non sempre però capita io riguardo siccome non ero preparato adesso ho qualche idea in più cioè le tecnicalità che servono per fare le cose negli ambienti digitali esistono sempre io ho ottenuto un blog per un sacco di anni e qualche volta mi è successo di dover scrivere un post per una persona cara che era morta volendo estremizzare la cosa che dicevi prima anche formattare un post è una specie di atto intermedio che sta fra il tuo dolore e la pubblicazione certo su TikTok c'è questa cosa maledetta del video per cui il video voglio dire c'è una finzione notevolissima sempre e comunque quindi in occasioni come queste può anche succedere che uno dica beh insomma cosa stai a studiare all'inquadratura però ecco mediamente negli ambienti digitali secondo me vale quello che diceva lui cioè le tecnicità sono inevitabili e fanno parte comunque del percorso fra la cosa che vuoi dire e il fatto di averla detta ecco questo sono riuscito a organizzarlo dopo aver sentito quello che diceva Davide su queste cose ah torno subito da te così stavolta quello che ti voglio chiedere è quindi tutto questo cioè questo riportare subito immediato senza elaborazione cioè che sembra essere immediato poi magari per qualcuno non lo è però come incide sulla memoria? beh dunque adesso il rischio quando si parla di memoria negli ambienti digitali ci sono secondo me due temi il rischio di essere eccessivamente come dire paternalistici cioè sapete sarete stati in altri incontri nei quali qualcuno da un gradino più alto vi avrà detto bisogna stare attenti perché le cose in rete restano per cui se dite una cosa poi tra 25 anni andrete a un colloquio di lavoro e qualcuno la tirerà fuori è vero non ho dubbi sul fatto che questo ci sia però insomma questo fa parte di una serie di indicazioni che sono anche abbastanza inutili nel senso che se uno dovesse tutte le volte in una vita di relazione negli ambienti digitali pensare alle conseguenze ipotetiche di quello che scrive o dice probabilmente andrebbe da un'altra parte insomma andrebbe al bar detto questo sul discorso della memoria io ho una posizione che mi è venuta in mente leggendo il libro di Davide ed è che secondo me non cambia molto negli ambienti digitali o prima cioè tutta questa grande idea che la rete ricorda tantissimo che c'è una specie di eternità in formato binario fatta di bit che rimarrà sempre lì da un punto di vista pratico già oggi è piuttosto chiaro che non è così cioè una quantità enorme di informazioni tutti i giorni scompaiono è ovvio io posso tutelare le mie e fare in modo che queste rimangano il più a lungo possibile però insomma è un ambiente che proprio da un punto di vista della sua architettura è un ambiente fragile molto fragile e com'è del resto fragile la nostra memoria cioè le cose che noi ricordiamo o che magari ci sono state raccontate dai nostri genitori su fatti della nostra famiglia poi piano piano si perdono ecco secondo me negli ambienti digitali succede qualcosa di abbastanza simile non so se di più o di meno però insomma l'oblio detto brutalmente è il risultato finale di qualunque nostro tentativo di ricordarci molte cose chi studia il 1500 il 1400 o periodi ancora precedenti si accorge che c'è una quantità enorme di cose che non è possibile sapere perché non c'è non ci sono tracce possiamo solo ipotizzare ecco secondo me non è che oggi cambi tanto se c'è un'idea sulla quale non sono tanto d'accordo è che quella che esista che i nostri pensieri abbiano una sorta di salvacondotto digitale che li porterà più lontano probabilmente secondo me no ok sarebbe interessante capire se un giorno si riuscirà a a razionalizzare tutti i contenuti che vengono condivisi e quindi creare dei veri propri cataloghi tematici una profilazione maggiore di quello che viene condiviso mi spiego meglio una cosa che si è detta che forse abbiamo detto tutti che quando c'è stato che il covid rappresenta un'esperienza che non ha uguali nella storia dell'umanità perché milioni miliardi forse di persone hanno fatto una specie di telecronaca di appunto di cronaca minuto per minuto quindi c'è tutta la costruzione dal momento in cui ha cominciato al momento in cui finito per modo di dire ogni giorno milioni di profili che raccontavano questo allora si dice che gli storici del futuro avranno un quantitativo di informazioni che non hanno che non ha precedenti nella storia però e su questo concordo con quello che dicevi tu se non è tutto questo materiale in qualche modo razionalizzato è come cercare veramente di ci si ritrova un mare di informazioni cioè non è possibile gestire tutte quelle informazioni perché sono talmente tante che non ci si riesce appunto a muovere bisognerebbe vedere se in un futuro prossimo si riuscisse maggiormente a creare una classificazione tematica cosa che si sta già un po' tentando di fare sui social però in maniera molto arcaica invece un punto più debole legato secondo me al lutto e alla perdita ma questo sia al lutto effettivo che al lutto nel senso della perdita della fine di una relazione sentimentale della perdita di amici di persone che non si fanno più vive il famoso ghosting e via dicendo riguarda la messaggistica privata perché la messaggistica privata mantiene c'è questo gioco alla fine temporale della dimensione online per cui tutto ciò che è passato in qualche modo assume sempre un'idea che sia lì presente perché quando tu scorri questi messaggi sembra di essere lì sul momento durante la conversazione perché è la caratteristica poi dei social che ogni istante viene in qualche modo immediatamente archiviato a causa del processo di registrazione e quello secondo me può essere più problematico per quelle persone che patiscono di più l'assenza e la perdita cioè crogiolarsi nelle conversazioni infinite che si sono avute appunto sia con i morti sia che appunto con mariti mogli fidanzati e fidanzate che non ci sono più amici che appunto con cui non ci si relaziona più e quindi quel lutto rischia di rimanere nel momento che poi una volta questo avveniva magari rileggendo una lettera cartacea riguardando delle fotografie però qui a livello almeno quantitativo è proprio un po' per questa idea di un presente eterno che caratterizza la rete questa cosa che si rischia forse di mantenere una presenza che è venuta meno e quindi di rimanere un po' ancorati alla perdita questo forse mi verrebbe da dire sono anche secondo me altre due cose da dire su questo la prima è che per molti anni io per primo che insomma ho sostenuto e sponsorizzato idee totalmente che oggi trovo totalmente fuori luogo insomma io dicevo beh insomma noi abbiamo attraverso gli strumenti digitali la possibilità di mantenere una specie di archivio assoluto di qualunque cosa e non ero il solo a pensare questo perché a un certo punto adesso non saprei dirvi forse una decina di anni fa la libreria del congresso americano fece un progetto che letto oggi fa veramente morire da ridere ed era di prendere tutti i tweet di tutto di tutta la piattaforma dalla sua creazione fino a non so bene quando e archiviarli tutti ed era una cosa sensata perché dentro una quantità enorme di spazzatura i miei tweet per primi non sto dicendo spesso si trovano i piccoli diamanti voglio dire la prima persona che ha dato al mondo la notizia dell'omicidio da parte dei Navy Seals americani di Osama Bin Laden è stato un tizio che era a casa sua sveglio a luna di notte in Pakistan e ha detto incidenti ma cosa sono questi elicotteri che passano qui sopra sembra una stupidaggine però insomma in una logica storiografica delle cose che succedono quel tweet aveva un valore ha tuttora un valore e quindi ragionando per piccoli frammenti in questa cosa è vero che la storia è molto finemente distribuita in tutto quello che abbiamo scritto e fatto negli ambienti digitali però è anche vero che per le ragioni che dicevo prima che una buona quota di questi contenuti fisiologicamente scompariranno l'altra cosa secondo me è rilevante è che questi ragionamenti valevano nel momento in cui i social network erano immaginati come il futuro relazionale del mondo è stato un periodo abbastanza lungo dove non solo in Italia però Facebook Twitter stesso ma anche altri social network erano pensati come l'estensione che avrebbe poi vinto la guerra delle relazioni delle persone che non sarebbero più avvenute nella vita reale ma sarebbero prevalentemente state da quelle parti poi sono bastati pochi anni sono passati cinque anni o sei o dieci e improvvisamente la gente ha smesso di usare i social network per quella funzione lì il successo planetario di TikTok è detto in altre parole mi sono stancato di scrivere buongiorno su Facebook alla mattina vado a guardare qualcos'altro ecco se questa cosa qui esiste e se fa parte di una specie di 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 flusso questa cosa indebolisce ulteriormente questa idea che la memoria possa perché lì di fatto le persone cominciano poi magari domani ricominciano però cominciano a non esserci più quindi questi due aspetti io li sottolineerei scusate in questo noi parliamo di ambienti digitali quindi in teoria di virtuale ma direi che possiamo dire che di virtuale non c'è assolutamente niente come una domanda che volevo fare è un po' come si collocano i corpi prima Davide diceva di quel pericolo di andare a riascoltare le cose io ad esempio mi ricordo quando ho perso mio padre riascoltavo la segreteria telefonica perché non c'era whatsapp e quindi ossessivamente ascoltavo finché poi mio terapista non è una grande idea smettila però a un certo punto mi veniva in mente nella mia storia personale che non mi ricordavo più come mio padre rideva e questa cosa mi ha ossessionato per degli anni cioè non puoi non ricordarti come tuo padre ride è una cosa che non ti può fare andare avanti nella vita vi chiedo questo tema del corpo cioè la risata la fisicità sia nell'invecchiare cioè il poterti guardare come eri e sia invece nella perdita degli altri sto parlando ancora di cioè sì ovviamente perché se sei morto non è che ti guardi sui social o forse c'è un social chi lo sa questo sarebbe fichissimo a scoprire comunque come si vive cioè è veramente un cambiamento grosso e non è così lungo cioè scusate è così 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 vecchio cioè è proprio recente io mi ricordo che Guccini fino a ha fatto concerti fino a non so cinque anni fa aveva una sua quando nella tua città suona Guccini aveva una foto di quando era giovane cioè di tipo trent'anni prima e tu dicevi cazzo c'è Guccini fantastico io stesso tutte le volte che vado a un evento e mi dicono mi manda per cortesia una foto io mando una foto che mi ha fatto un amico credo vent'anni fa dove sembro giovane per dire che insomma ecco sull'invecchiamento sono preparato nel senso che so bene come ci si comporta la prima cosa è smettere di fotografarsi oltre una certa età e mandare le foto di quando si era più giovane e solo che a un certo punto mentre scrivevo questo libro sono finito su questo saggio meraviglioso di Gianna Meri che dice si ok tu non ti guardi più allo specchio e io infatti in casa cerco di guardarmi il meno possibile allo specchio però le mani non puoi non guardarle e ho detto accidenti cioè per dire non si sfugge questo messaggio di ottimismo che volevo mandarvi non si sfugge alla propria idea di vecchiaia per cui il grande vantaggio degli ambienti digitali è che a un certo punto o per un po' come dicevo prima puoi tentare di metterci una pezza insomma e quindi se voi andate sul mio vecchio blog c'è una mia foto di vent'anni fa e finché posso la mantengo ok io la metterai su un piano più per ora sembra fantascientifico ma lo è fino a un certo punto c'è infatti il tentativo sempre più diffuso di fare in modo che se tu non ti ricordi del sorriso di tuo padre l'intelligenza artificiale faccia in modo esatto ma non solo ad esempio una cosa che ha creato l'anno scorso sconvolto il mondo l'anno scorso è la dichiarazione in piena estate da parte dei responsabili di Alexa che hanno ammesso che Alexa oggi con un solo minuto di registrato riesce a imitare le voci delle persone e la prima cosa che hanno fatto sentire era la voce di un nonno morto e loro sostengono che non mancherà molto da una fase in cui invece di parlare mentre diremo Alexa metti la tal radio eccetera sentiremo una voce meccanica dialogheremo con i nostri parenti che risponderanno e questa cosa è eclatante ci sono tanti esperimenti una cosa che a me ha molto colpito recentemente perché una persona tra l'altro secondo me molto intelligente sul piano tecnologico Gianluca Nicoletti conduttore radiofonico uno che è molto interessato agli sviluppi tecnologici sta cercando sta utilizzando dei programmi di intelligenza artificiale affinché la sua voce venga completamente riprodotta quando lui non ci sarà perché dice forse il mio figlio che soffre di autismo può far bene continuare a dialogare con la mia voce che è la caratteristica più importante della mia vita perché è quella con cui ho lavorato e via dicendo e ancora per lanciare perché è un fenomeno che si muove a macchia d'olio nel mondo dello spettacolo ormai gli artisti devono mettere come è successo recentemente a Madonna devono mettere nel testamento l'idea di non essere trasformati degli ologrammi perché si creano sempre più gli ologrammi degli artisti morti che li sostituiscono io faccio sempre questa battuta quando lo racconto a lezione su youtube è pieno di video dove vediamo i duetti di artisti in vita e di artisti morti per esempio Cristina Aguilera che canta con Whitney Houston con l'ologramma di Whitney Houston allora mi viene sempre da dire pensa se Whitney Houston quando era viva diceva io non canterei con Cristina Aguilera manco morta e invece te è toccato però al di là della battuta usate il mio ologramma con chiunque ma non con Cristina Aguilera però per dire che quello che tu hai sottolineato sta spingendo a cercare di far sì che noi in futuro prossimo non dimenticheremo nulla perché continueremo a dialogare e a interagire attivamente con i morti e questo ovviamente apre orizzonti interpretativi infiniti soprattutto sui lati negativi ma volendo anche i lati positivi è ovviamente un mondo nuovo su cui oggi si comincia a ragionare si dicono tante cose vedremo se prenderemo quella direzione però certo il fatto che ad esempio Alexa possa già fare una cosa del genere e abbiamo moltissime delle nostre case piene di questi aggeggi non è detto che veramente in un futuro prossimo il tuo sostituto che invece di sentire la segreteria telefonica dialogherà tramite Alexa con il padre morto ed ecco che si ricorderà magari delle caratteristiche vocali rischiando magari di rimanerne imprigionato in questa specie di situazione o magari traendone dei benefici e questo è tutto da constatare sì vedo che è interessante che non vedi mai cioè vedi sempre dei lati positivi in questo devo dire perché di primo istinto viene sempre da dire aiuto e invece riesci a trovargli una chiave positiva ne parlavamo un po' prima insieme in realtà buonanemente a tavola dicevamo che eravamo forse tutti opinioni un po' diverse tendenzialmente sei giovane e non sei portato a pensare alla morte o all'invecchiamento salvo diciamo dei casi insomma per cui ci sei portato per altre motivazioni però proviamo a generalizzare e quindi noi cresciamo in questa illusione a di essere immortali ed è il motivo per cui secondo me quando poi ci viene una persona vicina alla malattia rimaniamo sconvolti cioè con la classica come mi è potuto succedere beh con una percentuale altissima che succede alle persone so che è un po' terribile o di non fare tipo a me in questo momento capita tanto di fare degli esami e dicono no ma non si preoccupi è solo l'un per cento io dico sempre ma potrei essere io cioè non è che questa cosa non mi preoccupa certo è basta ma questo sempre per diffondere un po' di allegria ci tenevo e quindi perpetuiamo questa illusione non invecchieremo mai tanto a me non capiterà non morirò mai non capiterà mai alle persone intorno vi volevo chiedere voi credete che i social in questa cosa aiutino o la peggiorino posto che io ve la sto chiedendo da un punto di vista negativo cioè che secondo me è grave pensare che non invecchierai mai e non morirai mai cioè ci aiuterebbe un pochino però potete dirmi no non è grave no io non lo so io ho cominciato a sentirmi vecchio molto giovane per cui forse non sono la persona più adatta per rispondere ma a parte questo quello che quello che secondo me succede è che rispetto alla vita reale dove ci incontriamo in piazza e io guardo te dico accidenti come hai invecchiato e tu stai dicendo la stessa cosa di me sui social c'è questo filtro che da quel punto di risalire è un filtro benedetto nel senso che questa specie di questione sensoriale è molto attenuata noi possiamo mostrare agli altri non dico esclusivamente le cose che vogliamo non dico di falsificare mettere la foto di Brad Pitt al posto della mia però ecco insomma uno spazio c'è in questo e quindi nel processo di invecchiamento un po' tutto sommato poi succede questa cosa abbastanza fisiologica che uno prima si comincia a fare i selfie no io adesso non so se quanti ne ho fatti in vita mia però a un certo punto ho cominciato a togliere mezza faccia dal selfie no c'era un panorama e poi a un certo punto ho proprio smesso fotografavo gli alberi le cose che c'erano e quindi quello magari può essere anche un sintomo del fatto che uno sta diventando vecchio però è anche vero che la vecchiaia è un tema per vecchi io sono convintissimo di questo cioè io ho scritto invecchiare al tempo della rete perché a un certo punto un po' di anni fa per sbaglio ho letto un breve e meraviglioso saggio di Natalia Ginzburg che si chiama La vecchiaia e lei aveva più o meno la mia età quando lo scrisse l'età che avevo quando lo lessi dove dice è molto in tema con questo convegno si dice state tranquilli non c'è nessuna speranza insomma diventerete vecchi diventerete noiosi vi annoierete tantissimo con gli altri e non vi meraviglierete più di niente e quindi questo tipo di discorso qui o questo tipo di saggio qui se l'avessi letto anche solo dieci anni prima non mi avrebbe fatto né caldo né freddo mi ha colpito e mi ha detto accidenti sta parlando di me perché avevo 50 anni e per quello che dico che secondo me la vecchiaia è davvero un tema per vecchi che è un'ottima maniera per non vendere i libri perché insomma i libri si vendono ai più giovani e tu scrivi un libro per una quota di persone che non verrà a comprare adesso a parte queste stupidaggi però ecco questa cosa degli ambienti digitali rispetto alla vita reale ecco ti danno una sorta di conforto supplementare che è il motivo per cui forse sono anche interessanti è ovvio che anche lì ci sono molte misure si può andare dalla ciarlataneria assoluta fino ad utilizzarlo in maniera moderata come credo facciano la maggioranza delle persone però la vita reale è molto più crudele da quel punto di vista lì ecco sicuramente scusami che aveva una compagna all'università quindi si eravamo 20 anni che lei scriveva solo racconti con anziani su problemi di anziani e infatti non ha mai pubblicato niente cioè lei sognava diventa scrittrice aveva questa fissa stranissima e me l'hai fatto erano anche molto belli però dicevi ma perché erano molto strani me l'hai fatto scusami interessante questa cosa più sull'invecchiamento di cui sono sono abbastanza d'accordo con quanto è stato detto invece concentrandomi proprio più sulla morte sul quindi sui morti mi viene da pensare a questo ne avevo parlato nella morte si fa social perché è una cosa che mi aveva molto colpito c'è una adesso non lo guardo da qualche da qualche tempo credo che ci sia ancora un sito che si chiama my death space in cui le persone mettiamola così leggono una notizia sui quotidiani legate magari a un incidente o qualche fatto con il nome e il cognome vanno a cercare i siti i profili social di queste persone creano una pagina all'interno di questo sito quindi una raccolta di profili di utenti deceduti e se uno va a vedere al di là di che ci sono una serie di stranezze commenti che quello è un affatto un po' soprattutto sulle morti violente il fatto che gli utenti debbano commentare è una cosa che secondo me lascia un po' il tempo che trova bisognerebbe toglierla però la cosa che a me ha colpito osservando questo sito è che forse mai come oggi abbiamo modo di vedere una vita che giunta al termine una vita che riempita di fatti prendiamo dei profili in cui vengono condivise molte informazioni la nascita di un figlio la laurea o qualsiasi fatto e poi sai che a un certo momento c'è questo stop definitivo non c'è la continuazione e tu sai anche com'è finita quella vita e questo a me almeno personalmente è una cosa che mi impressiona e mi colpisce molto anche a livello emotivo però per il fatto che prima una situazione del genere generalmente non la vedevi nel senso leggevi le notizie sui quotidiani o i racconti sui TG dei TG nei fatti appunto delle morti più violente però poi finiva lì avevi dei nomi e dei cognomi delle ricostruzioni di storie ma non avevi modo di accedere a una specie di riproduzione della vita delle persone comuni vedendo il suo svolgimento e sapendo che non c'è più una continuazione perché quella persona è morta e forse quello è un elemento che se ci porta appunto a porre l'attenzione su questo fatto può diventare un punto di partenza per riflettere sulla sulla fine anche sul carattere improvviso della morte perché prima si citavano per esempio gli ultimi tweet di Ozama Bin Laden ma mi vengono in mente molti tweet c'è anche un sito che adesso non c'è più si chiama tweet year after oddio non mi ricordo il titolo comunque raccoglieva gli ultimi tweet delle persone che poi sono morte e allora mi viene in mente ad esempio cantante che amavo moltissimo Chris Cornell cantante dei Soundgarden una grande rock star all'epoca del grunge che si è suicidato la sera dopo un concerto tenuto a Detroit e rimane questo tweet in cui dice che bello ritrovarmi a Detroit che bello fare questo concerto e questo comunque fa molto effetto se ci si pone l'attenzione perché tu leggerai sempre questo tweet e poi immediatamente la tua testa va a quello che è successo subito dopo e come avviene con i personaggi famosi forse fa ancora più effetto con le persone comuni perché sui personaggi famosi magari crei delle mitologie ci costruisci delle storie ma sulle persone comuni vedi la persona della porta accanto ecco aggiungo questo scusa poi ti ridò perché questa è una cosa che a me ha molto colpito forse è la cosa che mi ha colpito di più qualche anno fa avevo letto la notizia qua in provincia di Torino di una ragazza di 16-17 anni che era morta di overdose di eroina e avevo cercato sempre per interessi legati ai miei studi il profilo Facebook perché ai tempi i giovani utilizzavano Facebook e c'era questo suo profilo e la ragazza era costantemente taggata dalla madre che era disperata di questa morte della figlia e metteva costantemente foto in cui c'erano lei e la figlia insieme e poi qualche tempo dopo sulla notizia sempre sui quotidiani la madre è morta probabilmente si è suicidata da quello che è intuito e quello che è restato sui social sono dei profili con madre e figlia insieme e di nuovo una persona che ha letto la loro storia si reca a tempo indeterminato su questi profili a vedere queste immagini di madre e figlia che sono morte in condizioni molto molto drammatiche e che rimangono con la loro storia questo secondo me fa molto effetto ed è una caratteristica particolare dell'epoca che stiamo vivendo sì assolutamente prima di andare in chiusura poi chiederò se ci sono delle domande quindi preparate mi diamo i tempi scusate vi faccio questa ultima domanda per cui ho fatto un po' una premessa stavo per dire paracullo ma paracullo non si dice cioè non lo so se ha tanto senso però ve lo vorrei chiedere per curiosità tu forse mi hai già risposto cioè volevo chiedervi secondo voi proprio perché appunto invecchiamento morte cioè sui social sta arrivando perché siamo lì cioè è arrivata e quindi ci sarà un'evoluzione probabilmente sempre più rapida e sarebbe giusto fare un'educazione a questi temi cioè si parla tanto bisogna dirlo ai bambini a scuola però in effetti i bambini in lutto cioè la morte è qualcosa che rimane un po' sempre oscura e quando poi si trovano magari ad affrontare da piccoli non hanno gli strumenti perché nessuno gliel'ha mai parlato e dall'altra parte vedono l'invecchiamento come qualcosa diciamo prima da loro lontanissimo viene da dire benvenga non è che a tre anni devi pensare sarò vecchio no però ad esempio il nonno la nonna è un'entità cioè fatta così è lontanissima da me sarebbe giusto o è un po' troppo un'educazione ai bambini verso questi temi cioè pensare di poter spiegare loro quello che succederà che è inevitabile nella loro vita e nella vita degli altri lui ti lascia sempre secondo me sì secondo me proprio può essere un'ottima occasione quella di sfruttare l'immagine e quello che viene mostrato sugli schermi per fare educazione anche solo banalmente a partire dall'idea che dell'interruzione questo è l'ultimo post per dire poi non c'è una continuazione da lì magari costruire un percorso educativo sul senso dell'interruzione ovviamente questo va fatto tenendo conto delle caratteristiche delle diverse età con un adolescente si possono adottare determinate caratteristiche prendere determinate categorie con un bambino si adotteranno ovviamente delle caratteristiche diverse e chi si occupa di educazione infantile è sicuramente più preparato di me darà più indicazioni precise però secondo me è una buona occasione un buon mezzo per cercare di educarci anche a utilizzarli perché poi in fondo se tutto questo materiale resta e anche quello è una sfida per ragionare sull'eredità digitale su quello che l'eredità digitale può provocare in chi rimane perché poi a me mi resta quello che ho scritto io pubblico sono appassionato di metal nei miei profili ci sono più video di canzoni metal che altro quindi non è che la cosa mi tocca più di tanto però al di là di questo invece sfruttare quest'occasione anche per educare l'utilizzo della parola sapendo che poi ci sarà una eredità che rimane secondo me può essere una buona idea ovviamente non posso dire no nel senso che temi dell'educazione l'unica cosa che mi sento di dire è che se ci occupiamo esclusivamente degli ambienti digitali gli ambienti digitali hanno una loro fisiologica complessità che probabilmente consiglia di allargare queste idee di educazione a proprio la grammatica di base insomma del loro utilizzo perché e che poi questo insomma è uno dei miti diciamo fondativi dell'educazione della cultura digitale ed è uno di quelli più voracemente travolti dall'evidenza dei fatti nel senso che noi abbiamo detto per decenni che era e lo continuiamo a dire perché è una cosa sensata non sto dicendo che era una stupidaggia c'è una grande necessità di comprendere la complessità degli ambiti digitali che hanno logiche e apparenze molto differenti da quelli della vita reale che banalmente anche capire quali tipi di contenuti sono balle e quali non lo sono è una cosa di una grandissima importanza ma anche di una grandissima complessità quindi insomma partirei ecco dalle basi poi dentro dentro questa specie di rinascimento intellettuale che gli ambiti digitali potrebbero molto in teoria portare certo è importante anche come del resto sarebbe importante parlarne anche non negli ambienti digitali quindi mi sembra il classico tema che galleggia nella stessa maniera da entrambi i lati di rinascimento di rinascimento di rinascimento di rinascimento innovare che Grigio di rinascimento divisa che potenzione per padare via Grazie a tutti